Dopo più di 30 anni il Teatro Tenda di Paganica che giaceva nell'abbandono sarà abbattuto, è iniziata già la demolizione. Al suo posto sorgerà un polo scolastico che andrà a servire la popolosa frazione, una realizzazione che si concretizzerà grazie ai fondi del PNRR. Il Teatro Tenda fu costruito negli anni 90, mai usato, rimasto incompiuto. Le operazioni di rimozione dell'infrastruttura avranno la durata di tre mesi per una spesa di 980 mila euro. Al suo posto sorgerà appunto un nuovo polo scolastico, moderno e sostenibile, finanziato con 4,6 milioni di euro che ospiterà l'uni della primaria, dell'infanzia e della secondaria. Si tratta di una delle opere di rigenerazione urbana più importanti messe in piedi dal comune grazie alle risorse del piano nazionale. In realtà andranno lì tre scuole, quindi tutto quanto il polo scolastico, materna, primaria e media ed è un progetto che permetterà oltre a chi avere scuole sicure all'avanguardia anche di rigenerare il centro urbano perché le vecchie scuole verranno ovviamente, tutto quello spazio verrà recuperato per metterlo a disposizione della comunità. Quindi si darà l'opportunità ai nostri ragazzi e alla nostra cittadinanza, alla cittadinanza di tutta la zona, di poter vivere in una maniera nuova tutto il paese. Ecco, attenzione per le frazioni. Assolutamente sì, è stato uno dei punti fondamentali sia del primo che del secondo mandato del sindaco Biondi su questa scelta di comunque tirare giù una struttura incompiuta dagli anni 90, ci abbiamo messo la faccia con una scelta chiara e decisa.